Lo sport con i suoi grandi e piccoli eventi come motore del turismo in Versilia, soprattutto nei periodi di bassa stagione. Una frase sentita spesso negli ultimi anni, ma poco spesso messa in pratica e di questo si parlerà sabato mattina in un convegno molto atteso organizzato a Villa Bertelli. L'appuntamento, promosso dal CONI con il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, l'Ambito e il Comune di Forte Remarmi, vedrà la partecipazione dei vertici del Comitato Olimpico regionale, nazionale ed ex atleti. Molto atteso l'intervento di Marco Riva, presidente del CONI Lombardia, che illustrerà l'organizzazione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 26 e le prospettive di ricaduta sul territorio. Mare, montagna, lago, campagna, la Versilia offre ogni scenario per le varie discipline sportive e le giuste strutture alberghiere, ma come spiega chi lavora nella promozione turistica, mancano le infrastrutture sportive adeguate. È importante dare un vero spunto di riflessione post pandemia perché gli investimenti delle pubbliche amministrazioni e dei privati vengono dilottati su impianti sportivi di livello che permettano durante tutto l'anno ai cittadini di poterne utilizzare e anche ai ragazzi del nostro territorio che stanno raggiungendo livelli importanti su tanti sport, su veramente tanti sport. ma contemporaneamente in permettere una destagionalizzazione e l'ospitare eventi nazionali o internazionali che permettano anche una ricaduta economica sul territorio e una ricaduta turistica.